davanti all'altare cento visite a gesù e carestia di concita concepzione cabrera di armida ventiduesima visita anime anime questo è il grido del mio cuore o gesù mio nell'avvicinarmi al tuo tabernacolo questo è pure l'eco del tuo cuore divino che risuona costantemente nel mio il mio maggior tormento gesù e caristico vita mia e capire il tuo cuore divino mi domanda anime anime e non averne a mia disposizione dei milioni per offrirtele quanto vedo quanto odo quanto tocco tutto pare che mi ripeta questa parola anime anime questo grido mi sveglia nella notte e dio o signore della mia vita non posso dartene che una la povera anima mia che si offre a te in sacrificio affinché milioni di altre anime si salvino e ti diano gloria quale martirio per il cuore che ti ama dover comprimere il suo zelo ardente per le anime non potertene dare o dolore che supera ogni dolore vederti o mio gesù oltraggiato abbandonato ferito e disprezzato dalle stesse anime da te redente ma posso presentarmi poi a fronte alta senza macchia sulla coscienza dinanzi a questo altare non ho tante volte straziato il tuo cuore con le mie slealtà ed ingratitudini dove sono le prove dell'amore che provo per te che cosa ho fatto finora per te dove sono le vittorie sulle mie cattive inclinazioni o gesù tu mi hai dimostrato il tuo grande amore per me con le tue umiliazioni con le tue sofferenze con le tue spine con i tuoi chiodi con il tuo silenzio con il tuo amore ed io che cosa ho fatto per te mi vergogno dirtelo tu sai ciò che sono stata ciò che sono però con l'aiuto della tua grazia l'anima mia ad ora in poi più pura più umile più mortificata ti consolerà se non ho influenza su altre anime almeno perfezionerà la mia caro gesù affinché tu possa rivolgere il tuo sguardo su di lei tuttavia anche se non lo merito ti prego di concedermi affinché te le possa offrire delle anime pure e candide coraggiose ed innamorate della croce io non sono che polvere e fango ma o mio diletto ti prego di volgere il tuo sguardo verso di me e di ascoltarmi concedimi ciò che ti chiedo con tanto ardore ti supplico gesù di amare quelli che non ti amano di aprire le porte del tuo cuore a quelli che non vengono a bussare di guarire quelli che invece di domandarti la salute si compiacciono di rendere più doloranti le loro piaghe dio mio non badare al loro accecamento e dalla loro ingratitudine ma ricordati del sangue che versasti per loro arresta i tuoi nemici sulla strada del male fa loro vedere la tua divina clemenza salvali valore incontro perché essi non vogliono venire da te mio dorato gesù e per pietà perdona tutti senza eccezione in questo modo mi darai delle anime da offrirti così tergerei le mie lacrime salvando tanti uomini che si perderebbero sì o mio gesù che queste anime siano per te dovessero pure costarmi il sangue e la vita ma soprattutto gesù abbi compassione della mia che vuole essere tua per tutta l'eternità così sia